Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Oggi su Tuccio TV torna una lattina che sicuramente conoscerete. Direttamente dalla Germania, ecco questa Monster Zero Sugar nel suo ultimo design. Ebbene, dovete sapere che se torna su questo canale è perché ci sono delle novità non da poco. Infatti questa lattina nasconde delle peculiarità davvero uniche. Se siete curiosi di scoprire di più quanto riguarda il mondo Monster, non esitate ora a lasciare un supporto a questo canale. Con un like, iscrivendovi se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando. Questa ragazzi è una lattina di Monster Energy Zero Sugar. Come vedete praticamente in tutto e per tutto non sembra avere nulla di particolare. Come già detto proviene dalla Germania e lo capiamo anche dalle scritte in alto. Questo ci fa comprendere che però se questa lattina di fatto noi la andiamo a riproporre è perché nasconde un vero e proprio particolare. Infatti se guardiamo il collo ci accorgiamo che la linguetta presente su questa lattina è di colore nero. Comprendiamo quindi che si tratta di una vera e propria promozionale. Infatti se la ruotiamo verso destra ecco che rivela la promo di Apex. Questa è la lattina di oggi. Un pezzo importante che di fatto circoscrive e completa definitivamente il set Apex 2022. Comunque minimi termini perché volendo potremmo espanderci sotto altri formati per cui sono uscite queste lattine e anche nazionalità. Ma al momento mi voglio focalizzare su quelle che sono le quattro lattine principali. Come vedete ho aggiunto un'altra lattina all'appello. Quella a sinistra infatti è la prima edizione uscita della promo di Apex Legends. Versione anche lei absolute di Zero. Come potete vedere le differenze sono abissali. Avvicinando le due illustrazioni all'obiettivo ci accorgiamo che di fatto variano al 100%. Infatti cambia il protagonista che viene manifestato all'interno della miniatura. E anche il modo in cui tutto è strutturato. Nella lattina a sinistra abbiamo tra l'altro un riquadro che indica le istruzioni di gioco per collegarsi di fatto al sito monsterenergy.com e poi abbiamo l'altra fila di informazioni che ci servono. Invece nella versione del 2022, quindi quella più recente, di fatto come potete vedere è stato dato spazio all'illustrazione. Quindi appunto al personaggio in questione. E qui ovviamente poi abbiamo quello che è un riadattamento di entrambi i format di layout per quanto riguarda lo stesso quadro della descrizione. Entrambe le lattine come già detto sono tedesche. Lo capiamo dalla scritta in alto sul collo. Zero Zucker che è la stessa. Pertanto l'altro elemento che è essenziale per la comprensione della nazionalità è dettato dal quadrato che indica lo smistamento dell'alluminio. Di conseguenza un elemento, una caratteristica che di fatto delinea e denota le lattine tedesche. Tra l'altro se avviciniamo il barcode all'obiettivo ci accorgiamo che di fatto la prima edizione prodotta nel 2021 ha come Sku 0521. Quella invece del 2022 ha appunto Sku 0622. Entrambe hanno produttore AG. Ragazzi ho dovuto smuovere tre quarti di collezione ma queste sono tutte quante le Apex. Prima edizione in alto 2021. Seconda edizione in basso 2022. Davvero strepitose ragazzi. Ora sì che si ragiona. Ragazzi siamo pronti con il nostro bicchierone per sorseggiare la nostra Monster Apex Zero Sugar. Sempre un piacere, sempre un'ottima occasione per poterla provare. Diciamo che è un gusto che non stufa mai e soprattutto per chi segue una dieta rigida, beh, una bevanda senza zuccheri è più che idonea a qualsiasi evenienza. Quindi sì, davvero top. Ragazzi siamo pronti per sorseggiare questa Monster Absolute Zero che come sappiamo ha qualcosa di speciale. Non male come sempre, gusto classico di Guaranà che ormai veramente è super appetibile. Pertanto considerate una cosa, finalmente ho questo set di Apex 2022 completo. Come già detto ci sarebbero altre versioni tenendo conto di nazionalità e formati. Però ragazzi, quello che mi fremeva avere al 100% è le quattro lattine classiche. Quindi la Original, l'Absolutely, la Zero Sugar Ultra White e la Salt. Pertanto diciamo che volevo fare le cose in modo certosino, perciò vi sono assicurato che tutte quante le lattine in questione fossero da mezzo litro. In modo tale da avere tutto quanto il susseguirsi delle Monster in questione. Davvero non male, sono contento di aver completato finalmente questo set. Era solo una questione di momenti, prima o poi le avrei trovate tutte. Ebbene, ora che sotto questo aspetto e tutto quanto al completo posso solo che ritenermi soddisfatto. E ditemi ragazzi nei commenti cosa ne pensate a riguardo, se anche voi avete i set di Apex al completo. Almeno i primi due, quindi le versioni in prima edizione, quelle del 2021, le quattro standard che ho appena elencato, più quelle nuove del 2022. O se no, se avete uno o di entrambi i set. Detto questo, mi raccomando, non esitate ora a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ci tengo tanto. Io concludo qui e noi ci becchiamo un prossimo video da Tuccio TV. Ciao! Ciao!